E qui siamo vicino a una grande cittadina di Borbano, no? Siamo sotto uno dei pianofi che stanno sotto Borbano. Su questo posto ci sarà un po' davanti a uno svincolo di Borbano, che praticamente è anche un altro degli svincoli che a lui piacciono di più. Da dove poi si entra, in dei paesaggi meravigliosi, questa è la galleria che è proprio sotto Borbano. Praticamente la cittadina di Borbano appoggia su questa gallezza. Ma proprio saremmo nello svincolo di Borbano. Un svincolo meraviglioso, se voi uscite e vi è dentro. Praticamente appena uscite lo svincolo di Borbano, ci sono poi i vari svincoli che si trovano all'interno, con il soleo di Borbano e altri paesini che sono, dei posti bellissimi per visitare. Da dove poi riforterete sicuramente dei ricordi bellissimi, che verrete per sempre dentro di voi sicuramente. Eccolo, primo fricolo di Pappano. Qui si entra in questo posto, meraviglioso, non lo dimenticate. Ricordiamo sempre che i video sono realizzati da tele-radio-signale stereo, e con la voce di Roberto Francesco e la regia è curata sempre da Salvatore Peralizza. Il tutto è ricordo della X-Fu, un'antena sui video. Grazie. Grazie.